buonasera carissimi super uomini e carissime super donne buonasera anche gli eroi e le eroine rico mister nicrista qual è la differenza tra super uomini ed eroi semplice i super uomini e super donne sono coloro che supportano questo canale permettendomi di continuare sempre a fare video e spronandomi a continuare fino a quando avrò vita e aderiscono questi super uomini alla mia pagina patreon www.patreon.com barra mister nicrista se volete anche link descrizione gli eroi sono quelli che semplicemente guardano i miei video non sono aderenti al patreon non sono abbonati al canale perché dimenticavo vi potete anche abbonare cliccando sul tasto abbonati però seguono i miei video e se uno segue un canale come il mio assiduamente ovviamente non per caso beh significa che ha coraggio significa che ha una sensibilità non indifferente significa che è un eroe in un mondo veramente di codardi in un mondo di zombie chi è l'eroe chi è quello che ha i muscoli quello che urla forte quello che fa imprese coraggiose legate alla forza fisica o legate a prestazioni no l'eroe colui che pensa e ama e si sforza di farlo sempre al meglio allora oggi voglio deridere le varie mamma mia società che fanno corsi di seduzione per riuscire a far trovare una donna ad un uomo che non ce la fa veramente robe ridicole tutti non è che uno è migliorato ridicole tutti ma a parte questo non mi soffermerò nemmeno tanto su questo aspetto come titolo lo dice chiaramente come conquistare una donna oppure chi sono ora non ho ancora deciso il titolo chi sono gli uomini che possono avere successo con le donne quali tipologie ovviamente un titolo cattura visualizzazione semplicemente perché so che un titolo del genere cattura è ridicolo ragionare nell'ottica come si conquista qualcuno tu non devi conquistare nessuno tu devi essere te stesso secondo te devi migliorare come persona per te e quando un qualcuno che incontri è in linea con te e tu sei in linea con lui o con lei beh allora nasce una sintonia nella spontaneità nessuno deve conquistare nessuno si deve essere se stessi e se si piace vuol dire che si può essere fatti l'uno per l'altro e col tempo ovviamente lo si confermerà non si può sapere fin da subito però l'importante è essere se stessi però detto questo chi sono gli uomini che possono trovare un pari o nella società secondo me tre tipologie chi ha tanti soldi indipendentemente che sia bello brutto uno brutto che ha i milioni in banca di donne ne trova oppure uno molto bello un uomo molto bello molto bello anche se non c'ha una lira anche se non ha un euro ovviamente chi ha soldi in abbondanza troverà facilmente moglie quindi una persona che vorrà tenersi stato il suo portafoglio e non a caso dico portafoglio che è molto bello ma non la lira magari avrà occasioni di andare a letto con ragazze però magari è un po più difficile trovare moglie perché magari non viene visto come un qualcuno che dà sicurezza economica ovviamente ha comunque possibilità una donna semplicemente che è attrata dal sospetto fisico che non dà molta importanza ai soldi ma in entrambi i casi se c'è soltanto il portafoglio e c'è soltanto la bellezza fisica che cosa c'è da gioire se tu con facilità ottieni consenso dall'altro sesso ma è solo per i tuoi soldi c'è da essere contenti perché molte di voi invidiano i ricchi perché hanno tante donne dietro ma cosa c'è da invidiare quelle donne non vanno dietro a lui per la persona ma per il suo portafoglio e beh ma intanto con quel portafoglio si porta a letto tante donne ma una volta con questo portafoglio si porta a letto una due tre donne secondo voi questo dà la felicità la gioia della condivisione di essere una cosa sola di essere davvero uniti la può dare una persona che vuole stare con te principalmente per i tuoi soldi direi proprio di no qui non è una fortuna voi non vi dovete interessare di conquistare una donna di ottenere apprezzamenti dall'altro sesso voi vi dovete al massimo interessare di costruire di trovare costruire un legame profondo se dovete vivere per trovare semplicemente un rapporto indipendentemente indipendentemente da come questo rapporto è questa cosa di una tristezza assoluta potete anche andare a letto con mille donne sarete sempre infelici poi ovvio una persona che magari ha difficoltà andare anche semplicemente a letto con qualcuna penserà che quello è l'oro non è l'oro sembra oro ma da solo non basta occorre anche qualcosa in più se invece non sei ricco ma sei bellissimo le donne ti vengono apprezzate principalmente solo per questo anche qui manca sempre quel qualcosa di importante almeno in questo caso la tua faccia è di gradimento il tuo corpo è di gradimento perché nel primo caso magari gli fai schifo sia come carattere sia come faccia nel caso della bellezza perlomeno la tua faccia gli piace il tuo corpo poi se solo quello che rapporto vuoi costruire ovviamente lo dico perché altrimenti sono alcuni che fai intendono io che tutti quelli ricchi per forza non hanno anche un bel carattere tutti quelli belli per forza non hanno anche un bel carattere sto dicendo i casi in cui quella è la caratteristica che è il motivo della relazione poi possono esistere anche dei ricchi belle persone o dei belli belle persone o sia ricchi che belli anche belle persone è rarità assolute però le rarità assolute sono anche tra i brutti non è che i normali o i brutti sono tutti belle persone la mia visione la sapete la maggior parte dei ricchi sono degli stronzi delle merde la maggior parte dei belli sono delle merde la maggior parte dei normali delle merde fisicamente paranormali e dei brutti delle merde quindi insomma la bellezza interiore è una rarità indipendentemente dalla ricchezza e dall'aspetto estetico direi che c'è poco da contestare questo quello che vi deve importare è la qualità di un rapporto altro che gioire se trovate qualcuno solo per la bellezza solo per i soldi o invidiare chi pensando che lui sia più fortunato di voi uno ricco uno bello uno ricco e bello se conquista solo per quello non è fortunato non è ha solo più potenziali partner o anche potenziali mogli accanto perché vi ho detto nel caso potuto del ricco o comunque benestante c'è bisogno anche di accasarsi trovare mogli e partner fisso ma non è una fortuna se quel rapporto è una merda voi non avete capito una cosa non mi stancherò mai di ripetelo avere una fidanzata un fidanzato un marito una moglie non è che necessariamente significa avere accanto qualcuno se il rapporto è sterile superficiale è peggio della solitudine anzi viva la solitudine se l'alternativa è rapporti di merda poi se uno trova un bel rapporto allora in quel caso va bene uscire dalla propria solitudine perché ne vale la pena altrimenti viva la solitudine ovviamente la maggior parte delle persone sta di merda anche in solitudine quindi capirete perché si accontenta dello schifo oltre perché gli insegnano solo lo schifo e anche perché la maggior parte dentro ha lo schifo lo schifo attira lo schifo senza offendere nessuno io sto usando parolone molto semplificative Errico mi ha anche detto che ci sono tre tipologie di uomini quelli belli quelli ricchi magari anche quelli belli e ricchi La terza qual è? La terza possibilità essere persone con una personalità cosa intendo per persone con una personalità? Con una profondità interiore, con un'identità ovviamente qualcuno ora mi dirà ma anche i corsi di soluzione dicono questo devi avere la tua personalità perché se magari non sei bellissimo, non sei ricchissimo però non hai neanche una personalità come fai a conquistare? Basta piangere, tiro fuori le palle, tiro fuori la personalità e vedrai che troverai Qual è il problema di questi discorsi che vengono fatti? È che per personalità si intende altra merda Ancora peggio forse dei soldi in sé, della vendita in sé da soli perché per personalità si intende fare quello che non piange mai fare quello sempre sicuro perché le fragilità sono robe antiestetiche no, la fragilità si intende alla maturità, ovviamente fragilità che non significa piangi perché ti sei rotto un'unghia, la fragilità è una bella cosa, la sensibilità è una bella cosa non fare il macio è una bella cosa, avere personalità non significa fare il duro, non significa essere quello che non ha mai paura di niente, non significa attirarti, non significa farsi desiderare quelle sono stronzate, avere una personalità, avere una personalità significa avere un pensiero proprio ragionare con la propria testa in un mondo di persone veramente tutti uguali e se si differenziano è solo per aspetti secondari dove è una mente che ha un qualcosa da dire perché pensa a un qualcosa perché ha veramente un qualcosa da comunicare perché c'è non solo fa e non solo ha, ma c'è se non sei, cosa conterà l'avere o il fare? ecco, una persona con personalità è una persona che c'è, che ha l'essere sviluppato qualcuno mi dirà, beh, in questa società secondo te è una persona che ha l'essere sviluppato come intendi tu, quindi personalità che intendi tu, quindi bontà d'animo, riflessività, senso critico può conquistare, se non ha anche i soldi e la bellezza assolutamente non sto dicendo che conquista al pari del ricco, del bello, del ricco e bello no, in questa società, se hai soldi mi limito a dire questo, se hai soldi e sei un coglione e sei anche pure brutto quello vince su tutto ma questo cosa vi deve importare? la maggior parte delle donne, la maggior parte delle persone è superficiale quindi se uno è profondo questa cosa conta poco e quindi peggio per loro peggio per loro che non sanno apprezzare il bello quindi è vero, se sei una persona con uno spessore interiore profonda d'animo, intelligente non conquisterai come fanno i ricchi o semplicemente i bellissimi però avrai possibilità, quando incontri una persona alternativa, sensibile e profonda di far nascere un bel legame se tu sei così tieni alla larga persone che comunque non ti interesserebbero e ha più possibilità, non la certezza assoluta non ha detto che ci potrebbe volere una vita comunque per trovare la persona giusta tanti anni ha più possibilità di trovare una persona simile a te in quel senso e quando si incontra un simile in un'ottica di profondità il rapporto ha molte più chance di essere profondo poi è chiaro che una persona intelligente con una personalità che è anche carino esteticamente avrà più possibilità di uno che ha personalità ma magari è molto brutto è ovvio questo perché esiste anche la strazione fisica in un rapporto uomo-donna però intanto se hai una personalità quello fa bene a te quindi iniziamo anche a ragionare in un'ottica che la vita non è solo trovare qualcuno è bello se trova qualcuno con cui si sta bene però però intanto tu devi stare bene con te stesso se hai una bella personalità, se sei intelligente questo in primis fa bene a te fa bene a te poi è chiaro che chi è molto brutto esteticamente magari non ha neanche molto denaro avrà delle difficoltà in questa società ma intanto sei una bella persona eh Eurico che ci faccio con il fatto che sono una bella persona se non trovo ragazze che mi apprezzano ripeto inizia a bastare a te stesso poi prima o poi l'incontro non sto dicendo arriverà di sicuro perché le cose belle non è detto che si trovino nella vita se capitano sarà bello non è detto che non capiti però non è sicuro che capiti ma se capita è una bella cosa quindi siate contenti in seguito alla strada che vi sto indicando non la strada dell'invidiare quelli che genericamente hanno tipe e poi non guardate il contenuto il contenitore, l'etichetta, il fatto di avere un rapporto un matrimonio non significa niente guardate il contenuto e poi ripeto a parte proprio i casi di bruttezza estrema quasi considerabile deformità a parte quei casi lì che esistono ma sono pochissimi statisticamente la maggior parte degli uomini che si lamentano e piangono credo che siano normali o magari un po' bruttini ma non a tal punto non potete trovare qualcuna che sia tratta da loro bene la maggior parte degli uomini quindi se coltiva la profondità prima o poi puoi incontrare una donna profonda per vivere un rapporto eh beh ho capito ma quello là mille chance io magari a 41 anni a 33 anni a 60 anni troverò magari la persona giusta solo una beh ma se sarà la persona giusta gioisci perché la maggior parte delle persone ma li vedete i rapporti in giro che schifo che squallore non c'è niente l'idea che hanno in tanti è che guarda una coppietta come è fortunata vorrei essere al loro posto guarda quelli come sono felici e tu non sai niente di loro dentro magari c'è il marcio sia dentro singolarmente sia come coppie questo quindi insomma spero di avervi fatto riflettere con le mie considerazioni volevo comunque sottolineare proprio questo il fatto che il concetto di personalità ed identità è importante avere la proprietà la propria personalità perché se tu non hai un soldo non hai bellezza estetica queste cose non sono importanti per trovare un rapporto profondo da sole non bastano ma se non hai neanche la personalità sei solo un lamentoso piangi piangi addosso sei invidioso sei frustrato che la sottofrustazione la manifesti ogni giorno con il rancore ma perché qualcuno ti dovrebbe volere in primis tu devi cambiare ok mi sembra normale prima qual è che molti vi dicono che per avere personalità e quindi uscire da quella identità che assomiglia molto all'anonomiato e al piattume per cambiare in questo caso significa diventare dei duri dei maci con quelle regolette stupide fatte desiderare cambio a look cammina diversamente ti indetta la schiena fai quello che non deve chiedere mai delle stronzate che attenzione 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 se seguite quelle regolette infantili può essere che atterrete qualche donna in più rispetto a prima è vero può funzionare ma attirete semplicemente qualche donna in più di prima non troverete una donna per un rapporto di qualità perché quello non è avere personalità significa essere dei rincoglioniti e un rincoglionito può trovare solo una rincoglionita ovvio se l'obiettivo è portarsi semplicemente qualcuno a letto funziona ma vi suggerisco di non cercare nella vita soltanto portarvi qualcuno a letto siete giovani? volete fare esperienza? ok ma la la felicità sta altrove e in primis per voi dovete diventare persone con identità seria però non da bambini dell'asilo per voi per voi e poi di conseguenza potete fare incontri positivi per relazioni positive vi saluto ragazzi se vi piace quello che ho detto commentate condividete ovunque supportate 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 anche se non volete abbonarvi al Patreon o abbonarvi al canale qui potete fare anche una donazione semplice www e mail enricocapacci86 chiociogmail.com oppure qua sotto c'è il link diretto per donarmi tramite Paypal ciao a tutti se ti piace quello che faccio e vuoi che continui per sempre a fare video puoi supportarmi abbonandoti al mio canale cliccando semplicemente sul tasto abbonati che trovi sotto tutti i miei video scegliendo il tipo di abbonamento che preferisci oppure in alternativa puoi aderire alla mia pagina Patreon per farlo è semplicissimo apri la mia pagina Patreon e scegli se donarmi 1 2 5 10 o 20 euro al mese il gruppo Whatsapp dei super uomini e delle super donne ed altri contenuti esclusivi ti aspettano puoi aderire fin da subito cliccando sul tasto arancione che comparirà fra pochi istanti grazie a tutti Grazie a tutti.